Le assemblee climatiche sono sicuramente un'opportunità di ritrovare strumenti democratici per condividere scelte importanti in un momento emergente di crisi ambientale, di crisi climatica. Certo è un strumento che va ancora testato fino in fondo e che ritengo sia importante non dimentichi mai di elaborare i contenuti. È importante lo strumento democratico, è importante il rivolgimento delle comunità ma senza mai prescindere dall'elaborazione di contenuti che sono quelli che ci vengono.